Andiamo avanti perché la serata è troppo ricca E' troppo ricca e quindi andiamo avanti con niente po' di meno che un bambino, Robert, molti di voi forse lo conoscono Robert Orlando è un bambino di soli 7 anni, pensate è ballerino di pop e breakdance è già parecchie volte campione regionale Fins e vincitore del talent televisivo Una Stella sta nascendo 2015 ospite di varie serate, oggi Robert vi mostrerà due dei suoi grandi successi con Robert Bond e poi l'altro, lo diciamo ora? No, lo diciamo dopo Vabbè, Michael Jackson, ve l'ho detto Eh ma no Robert! Un applauso! Jason Bond, Robert Bond Grazie! Grazie! Missione compiuta Grazie! 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 Missione compiuta Robert! Robert! Bravissimo il nostro piccolo talento! Bravo! Tanti cinque? Cioè mi avevano detto che eri un piccolo portento però guarda ti sei superato stasera! Noi non ci aspettavamo tutta questa bravura! Dobbiamo essere sinceri! Robert ti piace quello che fai? Sì! Sì! Fai compassione quindi! Sì! Noi speriamo che continuerai a lungo questo percorso! Bravo Robert! Ciao Robert! Ciao Robert! Tanto quello rivediamo! Tanto quello rivediamo! Grazie!